Ti mostro il tutorial che faremo insieme, eccolo. Svolgeremo insieme adesso il tutorial e dico subito che per guadagnare tempo nella timeline, come vedi, ho già inserito i vari file, le clip e tutto quanto. Poggiamoci, cioè selezioniamo il primo fotogramma, doppio clic e ci troviamo nella pagina effetti, ecco qua. Sulla sinistra abbiamo la specifica dei file caricati, in questo caso abbiamo due livelli, un livello sottostante che vedremo dopo è la clip delle stelle, diciamo. Il livello che ho evidenziato adesso, che ho selezionato adesso, è quello che vedi in anteprima, sono questi sposi e cosa è successo? Successo che il livello sopra oscura il livello sotto. C'è già un tutorial che spiega come fare per evidenziare il livello sottostante. Ad ogni modo lo ripeto, ripeto il concetto, per chi per caso si è trovato adesso nel mio canale e non gli è sfuggito, diciamo, questo tutorial. Una volta selezionato il livello sopra, il livello di sopra, dobbiamo semplicemente abbassare l'opacità. Più abbassiamo l'opacità e più verrà evidenziato il livello che sta sotto. E vediamo un poco, lo spostiamo un attimo perché iniziava un attimo dopo. Diciamo che già si incomincia a intravedere, potrebbe andare bene anche così. Un'opacità quindi a 29. Riportiamo il keyframe del tempo 1 nella prima posizione dove si trovava prima e abbiamo detto che questo keyframe ha un'opacità di 29. Cosa facciamo? Copiamo subito questo keyframe e ci posizioniamo sul tempo 2 e lo andiamo ad incollare. In questo modo abbiamo posizionato sia l'entrata degli sposi che l'uscita con un'opacità a 29. Questo ci permetterà di vedere il livello sottostante. Vediamo già in anteprima quello che adesso vedremo. Per guadagnare tempo spezziamo e ritorniamo tutto da capo. Abbiamo spiegato come vedere il livello sottostante. Però nel tutorial che ho fatto io ho giocato un po' anche con i keyframe. In effetti clicco di destro e incominciamo a mettere un po' di tempi intermedi. Ne mettiamo tre. Magari forse nel mio tutorial ne ho messi qualcuno in più, non ricordo, ma è perché voglio spiegare solamente il concetto. Cosa voglio fare adesso? Io nel primo keyframe vorrei lasciare l'opacità degli sposi in tutta la sua lucentezza per poi andare al secondo. Magari lo sposto un poco e solo da questo momento io rimetto il keyframe a 29, avevamo detto. perfetto. Adesso qui lo lasciamo così. Ritorniamo poi invece a questo punto qui. Magari lo spostiamo un poco ancora e torniamo a dare di nuovo tutta la lucentezza. Per poi tornare qui con tutta la lucentezza come dicevo. Bene, spero di essermi spiegata. Adesso sembrerebbe completo questo fotogramma, la prima postazione e la andiamo a vedere. Quindi inizia con tutta la trasparenza, poi man mano per far sì che il livello sottostante si vedesse non ho fatto altro che diminuire l'opacità. Però ho visto una cosa, ho sbagliato qualcosa perché al 2 c'è 29, ancora 29. Al 4 ecco già è troppo ancora qui. Mettiamo ancora un poco così. magari mettiamo un altro insert qui e solo qui magari lo portiamo a una. Vediamo se andiamo meglio con questo sistema. Perché copriva molto il livello sottostante. A me interessa che mi faccia capire come come si fa a vedere il livello che sta sotto. Ecco, adesso vedo che va già meglio diciamo. Ecco, perfetto. Finiamo di vederlo per intero, tanto, ma pochi secondi. E da questa postazione qui nel lato inferiore con la freccetta direzionale, cliccando sulla maggiore, ci troviamo nel nel secondo fotogramma. Come ti dicevo anche qui ho già caricato le clip per guadagnare tempo e questa volta abbiamo un file a video, un AVI. E poi invece abbiamo un file immagine che in effetti sono sempre esposi. Cosa vorrei fare adesso? Sempre lo stesso sistema. Per guardare il livello sotto devo far sì che questo qui sia opacizzato, però fra l'altro è anche grande. Quindi per prima cosa andiamo a ridimensionare il file. Una volta che ci piace la dimensione, la copiamo dal primo keyframe, ci possiamo al secondo e la incolliamo. In maniera che abbiamo sicuramente le due posizioni riguardanti nello specifico la dimensione del file immagine uguali. Ora possiamo parlare di opacità a questo punto. Però prima di parlare di opacità, siccome ci troviamo sul livello degli sposi, sul livello file, voglio fare un'altra cosa. Voglio che non mi compaia contemporaneamente al file sottostante, ma a questo punto qui. E però finisce con tutto il tempo. Ecco, voglio che compaia qui. E voglio che sempre nella prima posizione non sia posizionato, anche se non è proprio uguale. Uguale non fa niente. Dobbiamo aggiungere ancora un altro file. Lo voglio fare proprio uguale a come ve l'ho fatto vedere nel tutorial di anteprima. Questo livello si riferisce al cuscino con le fedi che ho messo proprio adesso. Posizioniamoci sul primo keyframe e incominciamo a ridimensionarlo. Lo spostiamo. vedete che io con il mouse lavoro direttamente il livello sottostante. Cliccate di destro e posizionatevi le spunte come ce le ho io. Abbiamo detto che lo dobbiamo copiare e lo dobbiamo incollare qui. Adesso ci troviamo. Ci diamo anche un'opacità. Ci diamo un insert qui al centro e incominciamo a dare l'opacità ridotta. Questo perché deve venire evidenziato la clip sottostante. Abbiamo detto 50 all'opacità e al keyframe 3 dobbiamo dare anche l'opacità. O gliela diamo con il cursore oppure facciamo un copia e incolla. Non è proprio 50 e 53 ma non va niente. Anzi, tante volte quelle piccole sfumature un po' diverse portano un po' di movimento. Abbiamo una sbirciata a volo a volo per vedere se poi è venuto proprio uguale al tutorial. Dovete capire che lavoro con un po' di fretta quindi non è venuto diciamo con tutte quelle come dire particolarità focalizzate nel tutorial perché lì ho avuto un attimo di tempo, non dovevo spiegare, ma il concetto comunque è quello. Qui poi invece ho messo, ho diminuito il file dei cuscini e ho messo il copyright. Vogliamo mettere anche la musichetta? Inseriamo anche la musica. La trasciniamo nella timeline. Aspettiamo che carichi. Se dopo clicchi nel link sotto alla descrizione del video, nel mio sito troverai anche la cartella che contiene tutti i file a corredo di questo tutorial, compreso le clip che io con una santa pazienza nel web ho preso, ho tagliato, ho cucito, ho fatto la sarta e ho dato le sfumature, le ho incollato. Insomma il lavoro già è bello e fatto, sta tutto nella cartella. Questo perché magari quando fai il tutorial hai tutto pronto e non ti annoi. mettiamo anche un poco di, aspetta, un poco di, ecco questa qui applica e posizioniamo tre secondi, tre anche qua. Potevo fare anche un salvataggio d'insieme, però è sempre fatto così, magari. Posizioniamoci sulla timeline, clicca CTRL con il cursore, sposti, prendi i nodini, aspetta, ho sbagliato, ecco qua. CTRL, prendi il nodino, se lo prendo, se lo acciappo, se lo acciappo. l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, ecco qua. Posizioniamoci sul lato finale, ancora più avanti, spostiamoci, ecco qui. Posizioniamoci qui e tagliamo tutto l'eccesso. CTRL, prendiamo il nodino, sfumiamo un poco la musica sul finire, posizioniamoci di nuovo davanti, ritorniamo sulla sulla slide list, e volevo dire, anzi l'ho detto, nella cartella del sito troverai tutti i file a corredo, che io ho preso dal web, ho ingollato, ho sfumato, perché la clip degli sposi era lunga, parecchia, io l'ho tagliata, l'ho ingollata, tutto per facilitare il tutorial che andrai a fare. Ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, è stato un buon lunghetto, spero sia piaciuto, e intanto saluto, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.